Musica Ciao amici miei, bentornati qui su MandraGaming e il canale con il culo più un fiamme di tutto il tubo Fiamme perché abbiamo sta leva, che cazzo ci dobbiamo fare? Ok, comunque se si apre, ora lascio sicuramente, ora si chiude, non ce l'avevo dubbi raga Ok, allora ragazzi come va? Io spero che vi vada tutto bene come sempre amici Ok, tutto bene, grazie per avermelo virtualmente chiesto Attenzione, allora, non fare la coglionazza del caso Ok, abbiamo preso un'ampolla, abbasso un po' il brume perché altrimenti urlo come un coglione Benissimo, allora, allora, Mandra Qui, qui, allora, qui è richiesta la tua dote di ultra schillato Vabbè, ultra schillato, quello che è? Benissimo Allora, io direi, spingiamo questo masso Questo qua, sì, sì, sì Ma questo che è più forte magari? No, c'è la stessa forza della donna Non si può sentire questa cosa, bene? Ok, anche il mago sarebbe stato a quanto opportuno Bravo Mandra, ci pensi sempre dopo Bravissimo, ok Ok, come possiamo fare per fare il più facilmente possibile? Allora, usiamo questa leva Facciamo così La teniamo premuta Poi chiamiamola a mignottona E vai No Mandra, sei... no Mandra No, no Mandra No No Allora, possiamo anche direttamente farla premere a lei Così, ok Poi benissimo No Mandra, sei una pippa Sei assolutamente una sega Allora, tienila premuta qua Poi premi questo e vai E andiamo Ok Prendiamo il guerriero perché non si sa mai Ragazzi, io abbasso ancora un po' perché magari Urlo e non me la parco Benissimo No Tanto non è un gioco horror dove La strippata è necessaria Ah, vedi, ho preso l'ampolla L'ho preso Dammi Dammi Eh, bravo Dammi la mia ampolla Ok Non ci sono altre ampolle Eh, quelle Nero 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 Allora Allora Bye bye Vola Mazzò Non la posso prendere questa Mamma mia Siete proprio spinorci quando si tratta di queste ampolle Eh Allora Allora No Mandra Mandra No, lì non si può Allora Rifletti Rifletti Prendi su questa Anzi Fallo in volo E fai così Alzala su Vai Prendi questa Eh no Mandra Mandra Prendi Vai Volatilizzate No Allora Eh Prendi Alzala E poi Come cazzo faccio Non ce ne riuscirò mai Parca puttana Allora Allora Ma se io la spacco Questa si può spaccare Ah Si si può spaccare Ok Creiamo una scatola magica Vai Vai Scatola magica Oh No No Va distrutto la scatolina Non è giusto Ah ho capito Forse Aspetta Aspetta Ci sono due culi Culi sputafogo Benissimo Eh Tieni Vaffa Vea No Allora Mago Amadeus Presentami la cassa Vai Ok Tappa il culo Della gentil Non ti muovere troppo Aspetta Vai giù Ma perché non vai giù Aia la testa Aspetta Ok Vai Ma che fai Voli quando Oh Vieni qui Devi seguirmi Maledetta Ok 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 Oddio No Allora Aspetta Vieni anche tu Vieni a pescare con noi Ci manca il verme No No Allora Aspetta Forse questo è più pesante Riesco a tappare Bene Non riesco a tappare assolutamente nulla Ah ok ok Forse 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 ho capito amici Forse ho capito Forse ho capito La situazione è molto complicata per me ragazzi Come potete potete vedere Allora Mago 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 Se non ci fossi tu Bisognerebbe inventarlo Ok Vai tu su anche qua Mandra Che cazzo stai facendo Il giocogliere delle casse Come un coglione qualsiasi Probabilmente si Ok Adesso Vai No Mandra Mandra Devi riflettere Rifletti Come cazzo Non le si tiene su questo coso Non riuscirò mai Mai Eh E mo' ho risorto Ho risorto che sei Una coglionazza Sei Ah Ah Ahiela pa Eh no Questa non ce l'ha le pa Eh no Allora Ah Ah Rifletti Mandra Non fare la sega Ti prego Ti scongiuro Non fare il pippone Allora prendo questa Poi prendo pure quest'altra Me ne vado proprio su Oddio Sì 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 Goduria sopraffina Extreme Goduria Oh Scusate ragazzi Mi trovo Immenso Soddisfazione Sei brutto Forte Vattene Affanculizzati Via 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 E adesso chiamo il mago Ah 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 No scherzavo Aio Mi hai Sguelciato la faccia Sguelciato la faccia Ma che cazzo sto dicendo Allora Torna No Impostazioni di gioco No Obiettive d'extra No Il quadro delle skill Come si usava il quadro delle skill Vorrei mettere una skill È possibile mettere una skill Impostazioni obiettive d'extra No Non lo sapremo mai più Probabilmente Ok Le metteremo nel prossimo episodio Amici sono una sega Perdonatemi Abbiate pazienza Adesso tu devi fare quello che dico io Hai capito Bruttatoi Eh Zoya Ok Ok Io adesso premo tutti i tasti Adesso mi sono incaponito Voglio Il mio punto skill Datemi il mio punto vita È il mio punto skill Possibile Eccolo Ho letto i vostri commenti amici miei Quindi cercherò di fare una cosa equilibrata Per non far torti a nessuno Allora Alla signorina Mettiamo la freccia a gelo La ladra è un'abile arcera Con un sacco di assi nella manica Tra cui munizioni gelate Aggiunge le frecce infoccate Un effetto che congela realmente i nemici I nemici minori sono completamente Gelati con due frecce L'arco teso solo parzialmente Infligge un danno inferiore Ok Perfetto Dai questa mi sembra abbastanza carina E per il messere qua Direi Man mano che la forza del cavallo Il cavallo può lanciare il martello tempesta Sì Lanciamo il martello tempesta Ci piace Perfetto Possiamo chiudere E possiamo Vediamo un po' subito questo Martello Come faccio a lanciarlo Lancia martello Bello Oddio Oddio Vediamo un po' se è vero Tipo quel oggetto in pietra Lo può distruggere No Tu l'hai mandata Bastardo Brutto No Accetta Accetto Ambedio con colpo L'ho sdraiato Aspetta Ah zona segreta amici Zona segreta Uuuuh Portiamo via questo masso di merda Vai 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 Ok Il mago Ok Goblin 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 Va a far flambere da qualche altra parte Va Ok Aspetta Allora così Bravissimo Mandra Mi faccio i complimenti da solo Mi faccio i complimenti da solo E vai Vai Cortango Vai Ok Bravissimo Mettilo così No 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 Non ti bruciare Devi riflettere Bravo Mandra Bravo Mandruccio Bravo Bravo Mandra Vai Il braghetto No ma se beve un braghetto Allora No Va Vuuu Vai Vai Non so cosa tu faccia Ma tu devi andare avanti per la tua strada Amico Amico Ponte elevatore No non è un ponte elevatore È un Non so cazzo io Allora La domanda è Perché Così Mamma mia Ma lo vedete ragazzi come Capisco subito le cose No No Non è vero Sto dicendo Una cazzata dietro l'altra Ma Questo ormai che voi ragazzi che mi seguite Lo sapete benissimo Che sono una Una marea di cazzate dietro l'altra Nel mio canale Vuol dire Meno quando vi dico Vi voglio bene Che era un occhietto felice Sì Allora proprio perché sei felice Ti do questo frutto Tiè piede sta Aspetta Aspetta Non ne possiamo Mi stai mangiando il frutto Ho capito io quello che devo fare Devo utilizzare la tua sporca lingua Ecco basta non mi mangi pure a me Ciao piccolo Ah No Aspetta un po' che c'è qua sotto Ho visto qualcosa Ma vedi ma si panna pure sotto Oh Ficata ragazzi Ficata Ok basta però Se no muoio Muoio di Senza ossigeno Muoio E senza salti pure Allora Vai così Vai così Torna su Torna su L'arcera Ma perché non vai tu Oh Magari me devo far mangiare da te Aspetta Fa un po' a vedere se me devo far mangiare Ma perché mangono sti dei idioti Io non posso farmi mangiare Vediamo un po' Non mi mangiare Non mi mangiare No Non mi mangiare Per fortuna gli faccio schifo E direi che è anche un bene Posso attaccare da qua No Direi di no Allora Allora Mandra Questa Aspetta posso andare qui Sì Ho preso un'ampolla Però Una stellina marina qua Una stellina marina Ragazzi Oddio Quanto è complicata Non lo so amici miei Scopriremo la risposta Al prossimo episodio Io vi invito A mettere un bel pollicino su Se vi piaciuto il video Condividete il canale Condividete il video Ragazzi Vi voglio bene Ricordate come sempre Iscrivetevi alla fanpage Facebook Link è in descrizione E al prossimo video Amici